Ci sono eventi che per un uomo, prima che calciatore, sono imperdibili. Sono quegli eventi dove lasci il campo da parte, ti siedi e guardi in silenzio. Quel silenzio confrontabile con quello successivo ad una papera di coicocea che mutò perfino l'intero stadio olimpico. Guardi fisso lo schermo come Sheik guarderebbe sua Soren un avversario negli occhi. Ti rilassi e aspetti, aspetti che accada qualcosa. Eh, forse conveniva per tempistiche aspettare una presenza di pelotti, ma quando metti la passione non esiste tempo che non passi. Da lì, tutto passa in secondo piano, donne, amici e parenti. Pronto? Justin, dove sei? Come non ci sei in allenamento? Mister, c'è un grosso buco nero. Ma no, non hai visto il buco nero mister? Ma è lì. No, c'è un grosso problema se non vieni. Ricordi che hai ucciso, ehm, che non ci sono più attaccanti. Chi allena sui locali, nici? No mister, lui sta con me. Salute Nico, Nico salute il mister e il mister. Ciao. Hai visto? Ambecilli, ce la sapete, corriete, è subito ora. Se no devo mettere pastura e punta. Ma è allora in bocca al lupo mister, buona fortuna ce la puoi fare. Allora il buon Justin Clivert decise di restare a casa a contemplare quel buco nero, nella speranza che Fortnite si decidesse a far uscire la nuova season. Ma niente accadde, fino a quando dei numeri comparvero nello schermo. Quindici, centosei, ottantadue! Ambo! Oh, oh Nico, Nico, dimmi se sono usciti. Vai. Undici, centoquerantosei, quindici, cinquantadue, ottantasette, quattordici, centosei, due, centocinquanta, sessantanove, poi centoquerantanove, Oh, Justin, dammi i numeri che me li gioco. Fu. Buon optimistic.